Siamo con Evandro Passalacqua, tecnico del Tor di Quinto, dopo la vittoria 1-0 sulla fortitudo calcio Roma. Allora mister, partita nonostante risultato stream in sito, mai praticamente in discussione, tant'è vero che nell'ultimo quarto d'ora si è giocati praticamente ad una sola metà campo. Diciamo che sono contento, soddisfatto, perché la squadra sta diventando sempre più solita, siamo in gruppo unito, non ci sono persone individualiste, questo mi fa molto piacere, diventa una squadra che si dà da fare, che suda, lotta per ottenere i risultati. Questo è al mio compiacimento e penso oggi abbiamo fatto una buona partita, una buona partita contro una squadra non male, ben messa in campo, dove ci marcava uomo. Comunque è stata una partita di forze nella loro metà campo, abbiamo fatto qualcosa in più, però è stata una buona partita. Ecco, poteva rivelare qualche insidia questa partita perché la fortitudo comunque lottava per la salvezza, per oggi praticamente mai stati in difficoltà, a testimonianza che la vostra è una difesa praticamente insuperabile. Diciamo che tutte le partite sono difficili, come ho sempre detto fin dall'inizio, da quando abbiamo fatto le prime interviste, io penso che questo è un campionato veramente avvincente è difficile su tutti i punti di vista, è bello per questo, non ci sono partite dove si può vincere facilmente, almeno che per un momento che magari è di difficoltà della squadra. Noi in questo momento fino ad adesso abbiamo proprio tutte le squadre ben messe, solite. Bel campionato come dicevo, noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, dietro ci stiamo comportando bene, ma perché funziona un po' tutta la squadra, non solamente la difesa. Tutta la squadra che funziona, magari segniamo un po' poco, e confronta le azioni che abbiamo da gol, però la squadra sta giocando, sta andando sempre meglio, comincia a macinare anche un po' di gioco, e questo mi fa piacere, mi fa piacere e sono contento. Ecco, l'ultima avete risposto alla vittoria della Tor 3 Test che ha giocato alle due e mezza, siete voi due a contendervi il terzo posto o credete che comunque sia un campionato molto aperto? No, 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 molto aperto ancora, se diciamo che siamo tutti là, quindi non è che siamo tutti a un punto, due punti, tre punti, una partita, non è che è molto facile la situazione, sono tutte squadre avvincenti, quindi molto difficili, è un campionato veramente divertente e difficile, difficile e secondo me fino all'ultimo ci sarà guerra, fino all'ultimo si combatterà, ci saranno partite dove magari le cose si faranno più difficili, ma non solo per noi, per tutti, e quindi lo vedremo alla fine quella che poi spunterà la situazione. Comunque sia, è un bel campionato, la vanno applauso a tutte le squadre, tutte le squadre perché tutte le squadre mi sembrano di buon livello.